Carissime amiche e carissimi amici, ecco un altro articolo che dimostra chiaramente le grandi menzogne che iniettano 24 ore su 24 attraverso la narrativa ufficiale. State vedendo un articolo del 30 luglio 2018 pubblicato da BT British Telecom che parla di Guglielmo Marconi. L'articolo non è visibile perché se non si è iscritti non è possibile accedere all'originale, ma ho trovato lo stesso articolo ripubblicato su un altro sito e lo mostro in lingua italiana tradotto automaticamente da I.A. L'articolo stesso ancora una volta distrugge il globo. Chi era Guglielmo Marconi? La storia dell'uomo dietro alle comunicazioni in radio. Un bell'articolo, vi lascio il link della traduzione se volete leggervi l'articolo intero. E' riportato dal sito British Telecom che vedrete scorrere ogni tanto. L'ingegnere, inventore e vincitore del premio Nobel a cui è accreditata l'invenzione della trasmissione radio. Ovviamente questo lo sappiamo tutti. E' giusto dire che l'ingegnere e inventore italiano Guglielmo Marconi ha cambiato il modo di parlarci, di comunicare. Attraverso il suo lavoro sulla telegrafia senza fili ha inventato il primo sistema efficace di trasmissione radio ed ha gettato le basi per la moderna comunicazione di massa globale. Interessante, eh? Comunicazione di massa globale, eh? Ma andiamo a leggere il succo principale di questo articolo. Il Ministero italiano delle poste telegrafi tuttavia non rimase impressionato e rifiutò di finanziare ulteriori ricerche. Quindi Marconi si recò a Londra. Qui fu presentato a William Preece, ingegnere capo dell'Ufficio Postale Generale, il precursore della British Telecom. Preece e l'Ufficio Postale accettarono di sostenere la ricerca di Marconi nel Regno Unito e il 27 luglio 1896 Marconi dimostrò con successo il suo sistema di telegrafia senza fili, inviando un segnale tra due edifici dell'Ufficio Postale, uno dei quali è il sito moderno della British Telecom Center in Newgate Street. Il 13 maggio 1897 Marconi inviò la prima comunicazione senza fili al mondo in mare aperto su una distanza di 6 chilometri pari a 3,7 miglia. Nel corso degli anni successivi ha continuato a sperimentare, fondando la Marconi Telegraph Company e dimostrando le sue invenzioni nel suo paese d'origine, l'Italia, e negli Stati Uniti. Quindi, il 12 dicembre 1901 Marconi inviò e ricevette il primo messaggio senza fili attraverso l'Oceano Atlantico, dalla Cornovaglia, ad una base militare a Terra Nova in Canada. Sempre i militari di mezzo, chissà come mai. Ciò era particolarmente significativo in quanto smentiva la convinzione prevalente che la curvatura della Terra avrebbe influenzato la trasmissione. Cioè, c'era la convinzione prevalente che la curvatura della Terra avrebbe influenzato la trasmissione. Mettetevelo bene in testa questo, perché lo sapete tutti voi che avete fatto le vostre libere ricerche, documentandovi come liberi ricercatori e come liberi ricercatrici, perché sapete bene che questa trasmissione radio annienta la fantasia del modello mediocentrico. Desidero mostrarvi, attraverso la mappa della narrativa in corso, questa vasta distanza sopra l'oceano presa da Google Maps, una distanza di quasi 3500 chilometri. Su questa schermata ho indicato i dati dove Marconi ha inviato il segnale da una collina alta 152 metri, da cui è partito il segnale, trasmesso da un aquilone con un cavo di altri 152 metri. Pensate che 152 metri è l'altezza dell'antenna televisiva del ripetitore British Telecom, che ha pubblicato l'articolo. Collina più cavo aquilone fanno 304 metri, l'altezza dove Marconi ha inviato il segnale fino a 3475 chilometri in Canada. Sul modello della Terra Globo, da un'altezza di 304 metri sopra il livello del mare, si ottiene una curvatura di attenzione di oltre 856 chilometri, dalla Cordovalia al Canada. Lo sanno bene che è impossibile su un globo. Per chi pensa, meglio, crede che le onde radio possano curvare o riflettersi sulla ionosfera, analizzate microonde 235 chilometri in linea retta solo su una terra piana attraverso indice alfabetico e se poi credete inventatevi altre fantasie perché le microonde non curvano. Oppure cercate wireless point-to-point a record di distanza italiano. Ma andiamo avanti a leggere. Ha continuato a sperimentare per estendere la portata della trasmissione senza fili. Il 17 dicembre 1902, una trasmissione dalla stazione Marconi Nuova Scozia in Canada, divenne il primo messaggio radio ad attraversare l'Atlantico dal Nord America e iniziò a costruire stazioni ad alta potenza su entrambe le sponde dell'Atlantico per comunicare con le navi nel mare. Qui vi invito a documentarvi, se ancora non lo avete fatto, del sistema Loran per individuare la posizione delle navi nel mare molto prima dell'invenzione dei satelliti. Marconi ha condiviso il premio Nobel per la fisica con Carl Brown nel 1909, in riconoscimento dei loro contributi allo sviluppo della telegrafia senza fili. Wow! Come vi ho detto vi lascio il link nella descrizione della traduzione automatica. Resta il fatto che è impossibile inviare segnali radio da una distanza di quasi 3500 km e superare la pseudocorvatura di oltre 856 km su una palla. è semplicemente impossibile. Ha senso solo su una terra a livello, solo su una terra piana, esattamente come dice l'acqua, che rimane piana e trova sempre il proprio livello e non curva mai, come vogliono farvi credere. E visto che parliamo della British Telecom, attraverso indice alfabetico gustatevi anche British Telecom smantella il globo, nessuna curvatura. Un abbraccio e non smettete di svegliare chi ancora crede alle notizie della narrativa col solo scopo di mettere paura. Ciao Dino